Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video su Arduino parliamo oggi del sensore RFID RFID sta per Radio Frequency Identification praticamente dispositivi come questo oppure come questo contengono all'interno dei chip dove è salvato un codice ogni dispositivo di questi è salvato e praticamente può essere identificato con un codice questi codici vengono poi trasmessi praticamente tramite frequenze radio in realtà sono chip passivi quindi non è necessario alimentarli e quindi il lettore che è il nostro dispositivo che abbiamo collegato all'Arduino che praticamente si occupa di alimentare tramite frequenze radio il chip per leggere il codice praticamente questi qui comunicano tramite frequenze radio come infatti avete visto succede qualcosa solo se le avvicino ora per poter scrivere il nostro programma dobbiamo scaricarci la libreria mfrc522.h e quindi la troviamo su google andiamo su gtab e scarichiamo da qui una volta scaricata dobbiamo andare nel nostro editor di arduino nel nostro sketch facciamo include libreria aggiungi libreria da file zip quindi selezioniamo il file e facciamo scendi comparirà poi in automatico la dicitura include mfrc522.h questa scheda praticamente deve essere collegata a pin specifici per poterlo utilizzare con questa libreria a questo punto definiamo quali pin abbiamo usato quindi definiamo rst pin il pin di reset che è il 9 ss pin 10 poi abbiamo collegato due line un pad e a led praticamente un verde e un rosso il verde l'abbiamo collegato al pin numero 4 il rosso al numero 5 utilizziamo un timer che praticamente ci servirà per quanto deve durare il led acceso e dopo li passiamo al lettore m cioè alla libreria a questa funzione i pin ss e pin e rst pin creiamo una tabella codici che all'interno salveremo praticamente tutti i codici che abbiamo a disposizione ogni identificativo è composto da quattro numeri e li disponiamo su colonne diverse ad esempio avremo un altro dispositivo lo inizializziamo come 00 poi quando sappiamo il codice lo sostituiamo qui ricordatevi di separarli con la virgola poi c'è una tabellazione che praticamente associa ad ogni riga di questo array la rispettiva azione da eseguire in questo caso per questo dispositivo eseguirà azione numero 1 per quest'altro dispositivo eseguirà l'azione numero 2 abbiamo poi int flag, indice azione e indice tab che ci serviranno per associare la prima riga di un array all'altro le corrispondenze ho creato poi queste due procedure che ho chiamato azione 1 e azione 2 dove azione 1 praticamente accenderà il led verde e spegnerà quello rosso dopo aspetterà per un timer timer come abbiamo visto e abbiamo dichiarato prima qui che è esattamente 2 secondi dopodiché spegnerà anche il led verde al contrario invece con azione 2 che invece accende quello rosso setup quindi avviamo il monitor seriale e li impostiamo con un timer di 9600 inizializziamo l'MFRC e settiamo i pin come output nel loop ora verifichiamo con la procedura pick is new card present se ci sono praticamente dispositivi nelle vicinanze dopodiché altrimenti facciamo return quindi finirà il loop altrimenti se il programma continua verifichiamo che ci sia un modulo RC522 altrimenti terminiamo a questo punto se è stato letto questo modulo stampiamo il codice che è stato letto quindi stampiamo sul monitor seriale che è stata letta la scheda con codice identificativo e dopo stampiamo i 4 valori dell'RFC stampiamo quindi una nuova riga poi impostiamo il codice azione uguale a 99 in questo for leggiamo praticamente quale azione è impostata per quel specifico numero di scheda e lo salviamo in codice azione infatti codice azione uguale tabellazioni indice di tabellazione ora se il codice azione è proprio uguale a 1 eseguiamo l'azione 1 1 se il codice azione è praticamente 1 intendiamo questo qui eseguiamo azione 1 che è questo metodo ho aggiunto poi la stampa sul monitor seriale eseguazione 1 e azione 1 completata giusto per vedere anche sul monitor seriale cosa sta succedendo stessa cosa per azione 2 infine se il codice azione è uguale a 99 che abbiamo deciso che è un valore predefinito per identificare una scheda non valida quindi è un numero abbastanza grande che non ne abbiamo praticamente stampiamo la scheda non presente in tabella aspettiamo due secondi e poi il loop si ripete comunque facciamo vabbè correggi e invia apriamo il monitor seriale ok è vuoto non succede niente appena avvicino ecco la scheda al dispositivo mi ha letto il codice della scheda quindi se non lo sapete ora sapete qual è il codice della scheda che ha letto e potete sostituirlo all'interno del primo array che è qui dopodichè ho fatto stampare seguazione 1 come infatti avete visto si è accesa la luce verde e quando l'azione 1 è stata completata mi ha stampato che l'azione 1 è stata completata infatti la luce verde si è spenta l'altro dispositivo che è questo ora lo avvicino ecco è già stato letto eseguito azione 2 ha acceso la luce rossa e poi l'ha spenta grazie per l'attenzione spero di essere stato abbastanza esaustivo grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione